Segregata e incatenata, ora l'incugo è finito. Trasferita in un luogo protetto la 21enne che ha vissuto un inferno. Da Ielo del Sabato in Nerpinia, lasciata per anni al buio e in catene, in una stanza dopo l'arresto della madre e figli trasferiti in una casa famiglia. L'incredulità del sindaco e dei vicini. Covid, contagi e vittime, la tendenza è in rialzo. Il virus non allenta la presa sulla Campania che torna a prima regione d'Italia per numero di casi. In aumento i ricoveri e le terapie intensive. A 696 TV il matematico del CNR Sebastiani conferma l'escalation della pandemia. Omicidio vassallo pentito ascoltato da IPM. I magistrati di Salerno hanno sentito un esponente del clan Loreto Ridosso che conosce nuovi particolari sull'uccisione del sindaco pescatore. Ad Avellino il processo gioia. Elena in lacrime. Non volevo uccidere mio padre. Patto De Luca Franceschini per rilanciare la cultura. Siglato l'accordo tra regione e ministero dopo le frizioni degli ultimi mesi, De Luca e Franceschini lavorano insieme. Ma resta il nodo dei fondi. Il ministro invita la collaborazione. Manfredi stanzia 5 milioni per il San Carlo. Trasporti domani sciopero disagi per i pendolari. La protesta proclamata dai sindacati a Napoli. Visto lo stop di 4 ore e il trasporto pubblico locale. Si fermeranno bus e tram della NM la mattina. Ma dalle 18 alle 22 saltano anche le corse dei treni EAP. Benevento ha ricordato le due vittime delle BR. 40 anni fa l'uccisione dell'assessore regionale Raffaele Del Cogliano e del suo autista Aldo Yermano, colpiti dalle Brigate Rosse Camorra. Il ricordo della loro città con una giornata dedicata alla memoria e all'impegno sociale. Buongiorno a questi titoli del nostro Tg in apertura c'è la cronaca. Segregata e incatenata in casa, trasferita in un luogo protetto. La 21enne che ha vissuto un inferno ad Aiello del Sabato in Nierpini ha lasciata per anni al buio e in catene in una stanza. L'incredulità del sindaco e della comunità. Sentiamo. Il giorno dopo il dramma familiare di Aiello del Sabato, il paese è ancora sotto shock. Tutti conoscevano la famiglia, sapevano dei loro disagi, ma lo stesso sindaco tiene a precisare che la stessa non era attenzionata dai servizi sociali. Non era attenzionata dai servizi sociali. C'erano stati tanti anni fa degli episodi incresciosi che avevano visto anche l'intervento dei carabinieri e che avevano visto in quel breve periodo un intervento degli assistenti sociali, ma la situazione, da quanto mi dicono pure gli assistenti sociali, era rientrata e quindi era nella normalità. Sono convinto che nessuno sapesse di queste atrocità, perché altrimenti sicuramente o i vicini di casa, o qualche compagna della ragazzina, o qualche mamma amica della famiglia avrebbe sicuramente allertato le istituzioni, i carabinieri, avrebbe allertato qualcuno, anche delle autorità militari, affinché intervenisse quanto prima. Questa mattina personalmente andrò a visitare sia i due figli maggiorenti che stanno a casa, sia i quattro minori, perché oggi il compito del comune, dell'istituzione comune, è questo qua, è tutelare, dare un supporto in qualsiasi modo a tutti gli otto i figli di questa coppia. Sconvolti, anche i vicini di casa. Io non li vedevo mai, vedevo solo i bambini che andavano a scuola, però io non sapevo i grandi, i figli grandi, io non sapevo nemmeno che ottenivano i figli grandi. Mi ha sconvolto comunque la storia, sì. Non ne parliamo proprio, non ne parliamo proprio. Il Covid non allenta la presa sulla campagna che torna prima regione d'Italia per numero di contagi, il aumento ai ricoveri e le terapie intensive. Sentiamo. Mentre il governo si appresta a varare la proroga dell'obbligo delle mascherine al chiuso, la campagna sul fronte Covid fa registrare numeri ancora superiori alla media nazionale. La regione è prima in Italia per nuovi casi, con la curva che supera il 22%. In aumento anche i ricoveri, sia ordinari che in terapia intensiva. La prudenza, dunque, è doverosa. Anche perché il trend dell'infezione è in crescita, come ha sottolineato il fisico del CNR Giovanni Sebastiani, intervistato dal direttore di 8 Channel 696 Pierluigi Melillo per la rubrica Punto di Vista. Per la campagna, appunto, a livello regionale, quello che possiamo vedere è che io guardo la percentuale dei casi positivi, ma rispetto solo ai molecolari. Considero solo quelli perché sono più affidabili. Anche perché oggi, sa, uno può farsi il test a casa e tanti non lo comunicano. Quindi è difficile poi il controllo, in quel caso. E ecco, questa percentuale ha un trend di aumento. Il valore, diciamo, non è alto, perché siamo intorno al 10%, come percentuale dei positivi dei test molecolari. Però il trend è di aumento. Situazione complicata anche nelle province. A Salerno, la chiusura del Covid Center, Aldaprocida, ha congestionato l'ospedale Ruggi. Il sindacato ha denunciato come in alcuni casi medici e sanitari abbiano dovuto visitare le persone sulle sedie, avendo esaurito i posti letto. Notizie incoraggianti dal Sannio, dove si registra un callo dei ricoveri all'ospedale San Pio e nessuna vittima nelle ultime ore. In Irpinia resta ancora alto l'indice del contagio. Su circa 4.300 tamponi, l'Asla ha comunicato la positività di 969 persone, delle quali 143 ad Avellino. E si continua purtroppo a morire. Al Moscati è deceduta una paziente di 73 anni, originaria del capoluogo. Tragedia in via Santa Brigida. A Napoli il proprietario di un bar si è impiccato nel locale, è successo al Caffè Max, situato a pochi metri dalla galleria Umberto, a compiere il gesto disperato il 45enne proprietario del bar. Secondo quanto, trapelano le ragioni, non sarebbero da ricercarsi in problemi economici che la famiglia della vittima non aveva. Sconvolta la moglie, nessuno si aspettava un epilogo poco così tragico. Molte persone si sono radunate davanti al locale, molto conosciuto nella zona. Massimo era una persona affabile dal cuore d'oro. Ieri sera hanno chiuso il bar alle 18, prima del solito. Non ho voglia, aveva detto ai presenti, come ha raccontato un lavoratore del caffè, questa mattina poi alle 8, la scoperta del cadavere. Ed ora l'omicidio vassallo. i PM di Salerno hanno sentito un pentito del clan Loreto Ridosos. Saprebbe particolari, fondamentali per risalire all'identità dell'assassino del sindaco pescatore. Sentiamo. Nuove rivelazioni sull'omicidio di Angelo Vassallo. Secondo la procura di Salerno, un pentito di Camorra conosce particolari, fondamentali per risalire all'identità dell'assassino del sindaco pescatore di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010. Si tratta del pentito Romolo Ridosso, originario di Castellammare di Stabbia, indagato in un procedimento connesso al delitto, come rende noto in un articolo il fatto quotidiano. Dopo anni di buio, per Dario Vassallo è finalmente tempo di fare chiarezza. Sono rivelazioni importanti perché da quello che si legge nell'articolo diciamo che questo pentito viene ascoltato dal 2017. Quindi sono già diversi anni. È una buona notizia perché penso che sia attendibile. Le dichiarazioni fornite dal pentito Ridosso hanno portato all'iscrizione di un'altra persona nel registro degli indagati, il titolare di un cinema di Scafati che nel 2010 noleggiò il cinema di Pollica, a pochi metri dal ristorante gestito dalla famiglia del sindaco Vassallo. Diciamo che questa altra persona è già indagata da due anni e insieme a Lazzaro Cioffi, ex carabiniere, probabilmente anche l'inquinamento delle scene sono dovute al fatto della negligenza, dell'imperizia e della stupidità di chi non ha saputo cautelare la figura di Angelo Salmo. Per me e per mio fratello Massimo non ci sarà mai tregua per questi miserabili. Nuova udienza per il processo dell'omicidio di Aldo Gioia parla la figlia Elena in aula accusata del delitto insieme all'ex fidanzato Giovanni Leimata chiedo perdono a tutti ha detto sentiamo non volevo uccidere papà mi dispiace tanto e farei qualsiasi cosa per poter rimediare chiedo scusa a tutti alla mia famiglia in particolare sono le parole di Elena Gioia la figlia di Aldo il 53enne ucciso con diverse coltellate dall'ex fidanzato Giovanni Leimata lo scorso anno Elena ha parlato per la prima volta in aula in modalità protetta davanti al giudice calabrese l'esame dell'imputata è stato avviato proprio dal suo legale Livia Rossi la penalista romana è andata indietro nel tempo dal giorno in cui è cominciata la relazione tra i due un rapporto sin da subito burrascoso tra alti e bassi erano più le volte che si lasciavano che quelli in cui erano insieme ad un certo punto Elena si rende conto che quel ragazzo non fa per lei lo sanno tutti ne parla con la madre con la sorella e con qualche amica tutti che invitano Elena a lasciarlo ma lei puntualmente ci ritornava insieme non era in grado di lasciarlo non avevo la forza dice perché spesso minacciava di farsi del male e voleva farmi sentire in colpa si arriva al 17 aprile giorno in cui si decide la strage familiare Elena aveva litigato con i genitori quel giorno era sotto stress e presa dalla rabbia scrive un messaggio a Giovanni voglio eliminare la mia famiglia e lui risponde ci penso io ma io non ricordo nulla di quel periodo riferisce Elena al giudice non riesco a focalizzarlo ero confusa e ancora oggi è come se fosse una cosa irreale il risveglio l'ho avuto solo quando ho sentito papà urlare da allora non ho mai smesso di piangere Elena dice anche che il periodo di detenzione le ha insegnato tanto l'ha aiutata a capire davvero le cose sbagliate e che Giovanni è stato un grande errore della sua vita sono accusate del furto e della ricettazione della copia del Salvatore Mundi trafugato dalla basilica di San Domenico Maggiore a Napoli trovato il 16 gennaio 2021 le sei persone alle quali i carabinieri del ROS e la squadra mobile di Napoli insieme al nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri di Napoli hanno notificato un decreto di fermo emesso dalla DDA delle sei tre sono gravemente indiziate a vario titolo di furto aggravato del dipinto olio su tavola gli altri tre invece sono indiziate di ricettazione aggravata dalla finalità dell'agevolazione mafiosa del medesimo dipinto l'opera raffigura l'icona del Salvatore Mundi o Cristo benedicente si tratta della copia del più famoso Salvatore Mundi realizzato da Leonardo venduto dalla casa d'asta di New York per un valore di 450 milioni di dollari la copia in questione ha un ingente valore storico e artistico risulta infatti realizzata da un allievo di Leonardo nel secondo decennio del secolo sedicesimo un patto tra regione e ministero per rilanciare la cultura a Napoli e la Campania dopo le frizioni degli ultimi mesi De Luca e Franceschini lavorano insieme ma resta il nudo dei finanziamenti sentiamo provare a superare le divisioni degli ultimi mesi e rilanciare la cultura a Napoli e in Campania con un patto tra regione e ministero Vincenzo De Luca e Dario Franceschini a colloquio a Palazzo Santa Lucia il primo nodo è quello dei finanziamenti poche ore prima dell'incontro il governatore aveva criticato il comune di Napoli per le poche risorse messe a disposizione per il teatro San Carlo il ministro della cultura ha invocato collaborazione io sono sempre per affrontare con spirito costruttivo e San Carlo c'è un problema generale che riguarda le fondazioni etico-sintoniche e soprattutto una fondazione importante come San Carlo che si è sostenuta con il massimo delle mezze possibili da tutti i soci siamo d'accordo tutti su questo vedremo quello che si potrà fare anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ribadito che Palazzo San Giacomo e la città metropolitana sono pronte a fare la propria parte per il teatro arriveremo a più di 5 milioni tra le due istituzioni quindi questo significa un contributo importante per il stancato poi progressivamente aumenteremo e questo man mano che il comune avrà la possibilità di investire di più ma con la città metropolitana faremo tanto Napoli è una parte importantissima dell'area metropolitana quindi con questo sicuramente ci sarà un impegno allo stesso tempo però il sindaco ha rimarcato che la regione non può non fare la propria parte per un territorio che rappresenta oltre la metà della campania Napoli l'area metropolitana di Napoli è il 60% della regione e questo mi sembra ovvio che la regione debba sostenere le attività culturali della regione domani il sciopero dei trasporti a Napoli lo ha proclamato la Confail Faisa la protesta di 4 ore dalle 11 alle 15 coinvolgerà bus e metro a darne notizie l'azienda napoletana per tram bus e filobus stop al servizio dalle 11 alle 15 per le funicolari Chiaia Centrale Montesanto e Mergellina ultima corsa garantita del mattino alle 10.40 il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 15.20 metro 1 l'ultima corsa garantita da Piscinola alle 10.26 e da Garibaldi alle 10.24 il servizio riprenderà nel pomeriggio stop alla circolazione anche delle linee Eav dalle 18 alle 22 e tra le motivazioni dello sciopero il rinnovo del contratto nazionale di categoria la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in vista del perturare della pandemia e la conseguente riorganizzazione del lavoro 40 anni fa il 27 aprile 1982 l'assessore regionale al lavoro e il suo collaboratore furono uccisi da due terroristi attentato rivendicato dalle brigate rosse che aggirano con la camorra la loro benevento oggi ricorda quel momento tragico con una serie di eventi promossi da libera istituzioni e associazioni è una memoria che ci impone di guardare al futuro ma nello stesso tempo ci impone anche degli interrogativi rispetto alla lungimiranza politica di Raffaele del Cogliano che sannio Raffaele del Cogliano stava provando a costruire con il suo impegno all'incontro anche i parenti delle vittime il figlio di Aldo Antonio e di fratelli di Raffaele Antonio è felicita mio fratello era una persona veramente onesta e speciale spero che possa essere ad esempio ai giovani il suo sacrificio dentro di me si riapre il dolore di questa grande ingiustizia e nel pomeriggio è in programma anche una celebrazione che sarà ufficiata dall'arcivescovo Felice Accroc ad un momento istituzionale presso il monumento al loro dedicato in villa comunale il progetto ex cementificio appunto ciotta del bene confiscato dalla mafia va in questa direzione appena sarà pronto saranno ultimati i lavori intendiamo fare un paio di giornate di sensibilizzazione sia appunto alla campagna dei vaccini sia appunto contro diciamo la criminalità dopo un calvario durato 17 anni si è chiusa alla vicenda giudiziaria di Arianna Manzo la ragazza di Cava di Tirreni vittima di un errore medico ieri in regione è stato firmato l'atto transattivo che prevede il pagamento di un risarcimento di oltre 3 milioni di euro a dicembre Arianna Manzo compira 18 anni aveva appena tre mesi quando fu vittima di un errore medico che le ha cambiato per sempre la vita dopo un lunghissimo calvario ieri in regione Campania è stata messa alla parola a fine alla battaglia giudiziaria portata avanti dai genitori Eugenio e Matilde insieme all'avvocato Mario Cicchetti la transazione firmata con il Cardarelli prevede il pagamento di un risarcimento di oltre 3 milioni di euro che serviranno per garantire un futuro migliore ad Arianna nota tristemente come la bimba di legno sembrava un sogno perché dopo tanti anni ogni volta è uscito sempre qualcosa in mezzo che è non si è meglio è concluso una volta una cosa una volta un'altra ieri sembrava che non era neanche vero siamo contenti perché almeno lei avrà in modo pure in modo di curarsi diversamente è la cosa che fa più male perché tu vedi tutti i giorni la vedi seduta o su un letto poi vedi ragazze come lei che escono fanno una vita normale e lei invece purtroppo è stata impedita per un errore medico potrà mai mettere una pietra su quanto accaduto mai mai cioè io non perdonerò mai chi ha causato tutto questo ma non solo quello del Cardarelli ma nemmeno Cava perché per una semplice e brenghiolite bastava una tenda di ossigeno soddisfazione è stata espressa anche dal governatore Vincenzo De Luca che ha fatto da mediatore per rendere meno dolorosa una ferita che nessun risarcimento potrà mai del tutto rimarginare servono più agenti una programmazione dopo il blocco del turnover e più formazione contro i cyber reati e le truffe che colpiscono spesso gli anziani la richiesta al governo arriva da Benevento dal segretario nazionale SIULP che ha partecipato ai lavori del nono congresso dei sindacati dei lavoratori di polizia dopo due anni di stop per la pandemia Benevento il nono congresso provinciale del SIULP il sindacato unitario dei lavoratori della polizia di stato con il rinnovo delle cariche sociali a partire dall'elezione del segretario generale per il sannio in un affollato salone della camera di commercio i vertici regionali e nazionali si sono dati appuntamento per un dibattito e successivamente per il rinnovo delle cariche presente il segretario nazionale Vincenzo Annunziata che ha rimarcato la necessità di incrementare organico e specifica formazione per gli agenti specialmente contro determinati tipi di reati in crescita un messaggio alla nostra politica che la sicurezza è un investimento noi crediamo che la sibernetica e la nuova criminalità attraverso internet e attraverso determinate truffe che incidono anche sul singolo e sulle tranquillità familiari perché truffare un nonno o una nonna ha un grosso peso all'interno di una famiglia deve essere visto dalla politica attraverso degli investimenti corposi come la nuova strada da percorrere per garantire una sempre maggior sicurezza ai cittadini italiani emozionato il segretario uscente di Gennaro Lombardo il suo primo confronto con gli iscritti al sindacato servirebbe che la politica mettesse dei fondi proprio per fare nuovi concorsi nuove leve per avere la possibilità di andare a coprire quel buco che da dieci anni il sindacato si ulpa sta gridando non solo aggressioni e rivolte nelle carceri detenuti impegnati in opere esterne di pubblica utilità accade ad Ariano Irpino dove chi sta scontando la pena è al lavoro in strada a ripulire i marciapiedi sentiamo è l'immagine del carcere che si apre all'esterno con i detenuti impegnati in attività di miglioramento del decoro urbano fuori dalla struttura in cui sono ospitati marciapiedi nel caso di via Cardito lungo la satale 90 delle Puglie letteralmente abbandonati da anni come la stessa rete di recinzione che separa la strada dal carcere Campanello una situazione di degrado più volte denunciata a chi di competenza dal segretario provinciale Osap Ettore Sommariva oltre alla carenza di personale che ormai lo stiamo ribadendo da tanti anni c'è anche un problema per quanto riguarda la sanità penitenziaria non a caso ci sono stati degli eventi critici nell'ultimo periodo un escalation di eventi critici e poi ci battiamo anche all'esterno abbiamo più volte sensibilizzato l'amministrazione comunale sia quella precedente sia quella attuale per la risoluzione di alcune problematiche che attanagliano ovviamente l'istituto penitenziario tra cui il marciapiede che è carente che non è stato deficitario che non è stato mai manutenuto c'è un problema sull'attraversamento pedonale sulle strisce pedonali che ovviamente ci sono delle barrile architettoniche e noi notiamo tutti i giorni quando vengono i familiari per il colloquio visitatori di qualsiasi genere che hanno delle difficoltà nell'attraversare perché non ci sono ovviamente gli scivoli abbiamo un problema per quanto riguarda i castronetti dell'immondizia che sono a ridosso dell'istituto penitenziario sono veramente pericolosi sia dal punto di vista igienico ma anche soprattutto dal punto di vista della sicurezza perché se in caso ci sia un incendio possono procurare dei danni anche alla struttura adiacente Prove d'estate a Castellabate con i primi turisti sulle spiagge dopo il boom del 25 aprile la località cilentana guarda con fiducia anche al fine settimana del primo maggio soddisfatti gli operatori economici del territorio sentiamo Prime prove d'estate nel Cilento dopo Pasqua anche la settimana tra il 25 aprile e il primo maggio fa registrare numerose presenze a sud della provincia tra le mete più gettonate Castellabate presse d'assalto soprattutto le spiagge come quella centralissima di Marina Piccola ho scelto il Cilento perché dei cari amici ci invitavano da tempo a Castellabate noi non c'eravamo mai stati e devo dire la verità che ne valsa proprio la pena mi è piaciuta tantissimo per me è stata una fonte di ispirazione perché scrivo anche canzoni We like the people of course because they are very friendly Non si rinuncia alla prima tintarella assolutamente no se c'è il solo è così bisogna approfittarne voi da dove arrivate? Santa Maria Capovedere è la prima volta che veniamo una bella scoperta una bella scoperta mi sa che torneremo finalmente anche grazie al tempo possiamo permetterci questa bella giornata di mare bilancio dunque positivo anche per gli operatori turistici in attesa della prossimo weekend abbiamo una forte presenza di turismo svizzero e attualmente tedeschi e un po' di francesi in giro tornano i turisti con tanta voglia di venire qui a Santa Maria fanno il bagnetto e qualcuno già sta operativo sono un po' di turisti di Napoli Avellino Salerno e le varie zone ci sono già anche prenotazioni in vista dell'estate? in vista dell'estate guarda per il mese d'agosto già è tutto pieno c'è stato un assalto proprio incredibile poi per luglio anche andiamo bene ti dico la verità contro l'inquinamento e per valorizzare i territori parte da Sant'Agata dei Goti nel Sanio il progetto Piedibus per i piccoli delle scuole primarie un vero e proprio autobus umano che accompagna i bimbi a scuola lasciando in garage gli scuolabus sentiamo il comune di Sant'Agata dei Goti è il primo in provincia di Benevento ad attivare il Piedibus un servizio innovativo ecosostenibile dal forte impatto sociale e culturale il comune Saticulano in collaborazione con l'istituto comprensivo 2 di Sant'Agata propone un'azione innovativa che coinvolge attivamente i bambini stimolandoli alla mobilità sostenibile e favorendo i processi di socializzazione e sviluppo psicofisico è una politica quella che abbiamo posto in essere col progetto Piedibus che guarda al futuro vogliamo offrire un servizio alle famiglie e l'adesione che stiamo avendo in questi giorni siamo partiti con dieci bambini in una linea e sono già diventati diciotto quindi una cordata lunghissima ci fa ben sperare da questo punto di vista vuol dire che rendiamo davvero un servizio utile alle famiglie e questo è il primo obiettivo il servizio funziona come un mera e propria scuola bus confermate orari conducenti grazie al corpo della polizia municipale e alla collaborazione dei nonni vigili oltre che ai volontari abbiamo poi a cuore la solidarietà perché a fare da accompagnatori al piedibus abbiamo detto questa cordata di bambini con un aprifile o un chiudifila ci sono i volontari ci sono i nonni vigili che ci seguono sempre in ogni attività e ci sono i percettori del reddito di cittadinanza utilizzati proprio con la loro volontà impiegati per la prima volta in progetti di così alto valore culturale era l'ultima notizia il TG termina qui grazie della vostra attenzione e vi lascio ora al TG Sport Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti